Vosca Accademia Culinarna, oggi se i maccheroni si combina gorgonzola e piccante anduja, noi facciamo un po' prima di creare anduja, come i cavalli, sdemuiamo il frac e sproviamo, è piccante, è super fantastico. Voda gottica, solime, usiamo spaghetti, patelina, troppo di mleco, sdemuiamo scura la nostra gorgonzola, creiamo in due cavalli, poi usiamo il mleco, a nisca temperatura e ci vediamo se è rospuscia. Mentre ci sono i maccheroni, i maccheroni sono molto, molto al dente, l'anduja nasce la gorgonzola, mescio, 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 il maccherone è gottica, dobbiamo anduja, posa oggini, e ora mescio, 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 dopo che si formuja i miei samovite piccante e molto dobre creme. Creme sono i maccheroni e i miei gottici, ostre, piccante, concretne, inapevno, buonissimo. Ciao!